Ciao a tutti siamo Spiegeram, benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale Come vedete siamo su una custom map o più precisamente su una adventure maps Il nome è... non mi ricordo... post apokalypes comunque c'è nel titolo Vabbè lo scriverò nel titolo del video in ogni caso Insomma il tema è quello di... Di un luogo post apokalyptico circa nel 2024 se non sbaglio Dove gli umani per sopravvivere si sono nascosti, si sono rifugiati nelle gallerie sotterranee del... Allora non so esattamente dove devo andare Questa resource pack è bellissima, meravigliosa Iniziamo subito però fatemi aumentare un po' il volume Customize Non so esattamente come funziona perchè ci sono... ha cambiato pure le scritte qua No va bene così il volume, ok Allora andiamo avanti Queste sono porte che non si possono aprire Qua dice minecraft version 1.8, io ho stato la 1.8.1 Requisiti, resource pack, già messa Poi, regole Add in to mode Aia Add difficulty Ah, no forse non devo cambiare niente Brightness, bright Ehm... P... 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 No Assolutamente lasciamo una Oh cazzarola Ehm... Cento giusto? Oh fuck no Ehm... Ah ok così no what the fuck era 50 forse ok si allora choose class hunter rifle bullet light armor and some food guard baseball let's have armor some food allora sono due classi come i famosissimi giochi fps e uno dove abbiamo un parla di un cecchino di un fucile da cecchino credo qualche arma arma come si dice arma a lunga distanza ballets che sarebbero le palle non mi viene il nome le munizioni light armor non ho idea di cosa sia light armor son food un po di cibo poi invece questo baseball bat vabbè ascoltate facciamo così io scelgo questa hunter non so come si sceglia forse da qui ah choose class ah ce ne sono anche altri due merchant macette soldi e molto lots un bel po di cibo dottore pozioni e bla 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 scelgo abbiamo detto hunter si hunter the fuck mi c'è una porta queste sono scatole oh non posso distruggere niente probabilmente what the fuck aspetti non so se posso prenderlo what redstone quella grab your gear oh tutto mio oh what what ok non sono cambiato la texture pack qualcosa pin apple prendiamo un po di cibo raw chicken allora ci prendiamo questo poi gps addirittura no facciamo così non capisco ma ecco ok così poi 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 ci prendiamo ballets assolutamente ne prendiamo sì dai no 64 no perché non so come funzioni l'orologio che non so a cosa possa essermi utile visto che non funziona neanche quindi lo lascio qui gasolina what perché per cosa mi può servire lighter flint and steel ah ah ho capito ok non so come si usano quindi li lascio qui oh 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 granade espired medicine non ho capito cosa cosa il mercit uno me lo prendo non so come funziona anche questo però vabbè io prendo tutto io praticamente figata questa custom map ok possiamo andare start le scatoloni sono il massimo wow che texture allora qua dice nel 2014 una guerra nucleare si è verificata si è verificata una guerra nucleare no aspetta blablabla dove 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 ah si forzando un bel un come una montare esagerato di di popolazione che ha sopravvissuta per rilocarla sotto nel sottoterra dove si trova la metro e la stazione della metro per cercare il rifugio dal mondo esterno per prima cosa no ad first film ah all'inizio tutto era positivo insomma tutto andava bene c'era pace e trade ah si facciamo addirittura degli scambi tra le stazioni tra le varie stazioni dei baratti ma qualche anno dopo la stazione è diventata no è iniziato un attacco dalle creature mutanti che vivono nelle rovine nelle rovine e della terra insomma è tutto diventato negativo velocissimamente mamma mia che traduzione proprio mamma mia allora what ciao checkpoint alpha please give us so much soup we are really hungry non le ho portate mi dispiace qui cosa abbiamo un generatore lol qui abbiamo wow 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 pin apple empty can bendy gas a questo non mi serve pin apple si mi servirà bady gas non so come funzioni un altro medikit ma lo prendo con vigore ballets me li prendo anche questi paper and fader li lascio lì ora dove devo andare esattamente qui non posso andare ok qui c'è il limite praticamente ora la domanda è devo seguire questi cartelli you are living the safe sector ok sto vivendo nel settore sicuro dovrebbe essere sicuro per lo meno allora questo è l'ultimo posto sicuro della linea metro dopo questo tunnel non c'è niente soltanto una stazione abbandonata piena di corpi wow mi piace andiamo ok inizia l'avventura spero che vi piaccia l'altra custom map quella ocean craft mi sa che si chiama è eliminata praticamente non sono sicuro che c'è praticamente praticamente non so come dirlo intendo dire che cos'è questo secret non è lo no probabilmente non lo so è un punteggio forse dicevo la ocean craft l'eliminata perché perché sto provando delle custom map come questa e sto guardando se mi piacciono oppure no se non mi piacciono non le continuo più che altro per voi perché sono sicuro che se non piace a me non piace cioè se non piace a me faccio dei video di merda e quindi niente cables non so cosa me possa fare quindi lascio qui non tu ma tu ci prendiamo al road chicken journal journal ci troviamo riuniti per registrare un video per spiga 98 network si lo so anche scrivere forse ok abbiamo un libro scritto ora lo mettiamo qui ciao lo lascerò ai postmi ai posteri in realtà allora on the surface there is no allora nella non mi viene la parola esatta nella superficie non c'è niente soltanto cockroaches cockroaches cazzoni no ok ok ah ok insomma le cose cotte insomma le cose che sono sopravvissute alla bomba atomica we were very lucky to be using the metro when the bombs fell ten years ago siamo stati molto fortunati eh to be using ah ah siamo stati troppo siamo stati molto fortunati a usare eh la metro eh quando to be using ah mentre stavamo usando la metro ah siamo stati molto fortunati perchè mentre stavamo usando la metro eh la bomba è stata buttata dieci anni fa mamma mia che traduttore di merda che sono qua mi dice se le do del gas mi da dei bullets ma io non ne ho ancora bisogno quindi no no ma proprio no e tu cosa saresti oh si posso entrarci dentro allora dove devo andare dove devo andare dove devo andare una bella porticciola what the fuck is this un bel forno con del coal che che utilizziamo per cuocere questo raw chicken andiamo a dormire non andiamo a dormire posso prendermi questo posso prendermi questo l'ho preso non l'ho preso o l'ho preso non l'ho preso spray can what ma tutto questo roba che sta raccogliendo per cosa potrebbe tornarmi utile ma soprattutto posso andare a letto la risposta è sì allora questi video dureranno circa quindici sedici minuti insomma posso cuocere anche questo o è già cotto aha è già cotto e allora Giacobbe haha le capital non erano una battuta infatti andiamo avanti le termosifone mamma mia eh ho capito sto distruggendo tutto sono un cretino ok queste non le posso prendere quindi oh ma la c'è una chest paper feather prendiamoci tutto dai lighter and morfina morfina wow spettacolare questa mappa mi piace perchè è molto 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 realistica molto bella mi piace mi piace davvero da questa porta siamo entrati se non ero la risposta è no altra carta abbiamo già dormito ok 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 andiamo avanti altra porta altro giro altra corsa abbiamo delle ceste nascoste molto nascoste e banda gas quando scoprirò cosa serve magari potrebbe tornarmi utile allora questo lo posso anche lasciare qui no lo prendo perchè non so cosa serve magari mi serve per qualcosa di importante andiamo avanti e troviamo un bel pilastro mamma mia che texture gas qui abbiamo del mad pack accettiamo dei mad pack yes che poi sarebbero delle pozioni alla fine ok facciamo così gas non tocchiamo che esplode ci sono troppe porte per i miei gusti mi dimenticherò quello che ho già visitato tu cosa mi vai a dire ragazzuolo se si dà il gas mi dà delle ammunizioni ammunizioni oddio delle munizioni prendiamo della civoda civolla civolla scusate civolla eh a me mi piace la civolla poi andiamo qui e troviamo una bella porcicina what e muratta tipo se buongiorno bel signore cosa mi dà in cambio di beh no perchè non so cosa mi serve il gas magari è qualcosa di troppo utile per darlo a te lurido pezzo di cazzo pezzo di cazzo no è proprio un'offesa di quelle forti secondo me aha mad kit morfine and paper aha altro call e prendiamoci tutto ma si ma sgraffiniamo di tutto anche tanto non gli serve un Kaiser sono dei cacchio di dei mob ehm storage room ehm no aspetta si cosa sto dicendo si vabbè ma questa mappa è gigante io mi sto già perdendo non avete capito allora cosa troviamo qui un bel pavimento un pavimento molto eccezionale allora vediamo questo piano cosa c'è in questo piano di così interessante una bella scala una bellissima bellissima scala qui abbiamo una diretta che non dovrei vedere probabilmente non dovrei proprio vederla ma sono dettagli buongiorno bel signore mi da un'ammata ma si un'ammazza si dai chissà cosa corrisponde va buo ehm no non entravi in amore caro ti amo anch'io però wow 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 gas per un lighter gas per ammunizioni ehm refall oh no no la mazza è chiudata la volevo oh fuck qui abbiamo un bellissimo cosa che gira ho sentito un maiale ma forse sono io che oh fuck get up oh fuck credo di essere in corso in un bug bene perfetto perchè tanto il tempo era finito io sono spiegato se il video vi è piaciuto se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete mi trovate sempre su twitter google plus o su mio sito spiegelamontato.x10.mx o su facebook digitando facebook.com slash spiegelamontato ufficiale io sono spiegelamontato ciao a tutti vi voglio far notare che questa non è una serie ma è una puntata randomica cioè per random play forse dare un nuovo nome a questa serie nel senso random play va bene ma per le custom map dovrei creare un nuovo nome tipo random map oppure random custom map oppure ciao a tutti io sono spiegelamontato ciao